Grazie a tutti, buongiorno a tutti, sono Michele Palladino, proprietario e coach di CrossFit Salerno. Oggi è mercoledì e abbiamo delle alzate pesanti su tre esercizi. Riscaldamento. Andiamo a fare wall pipe overhead squat, quindi ci mettiamo vicino al muro, e andiamo a fare con il bastone cinque serie da cinque ripetizioni di overhead squat. Cerchiamo di incrementare il peso, quindi utilizzando il bilanciere vuoto, ad ogni serie. Perché? Perché nelle skill abbiamo come primo esercizio, quindi come prima alzata pesante, abbiamo l'overhead squat. Cerchiamo di arrivarci gradualmente al peso e lavoriamo sull'alzata pesante, così come lo snatch grip behind the neck e andiamo a fare il push jerk. Arriviamoci e facciamoci sempre un riscaldamento specifico prima di arrivare alle alzate pesanti, così come il power snatch, quindi andiamo a fare un riscaldamento specifico per il power snatch e arriviamo alla singola pesante. Dopodiché wood, abbiamo il primo wood degli open del 2011, che consiste in un hammer up di 10 minuti in 30 double under e 15 power snatch. Per gli advanced 45 kg maschile, 30 kg femminile. Per gli intermedi 35 kg maschile, 25 kg femminile. Per i beginner 20 kg maschile, 15 kg femminile. Ragazzi, buon divertimento, ci vediamo domani. Ciao!